Benvenuti al Tg di Telestense, Telestense che con il proprio telegiornale approda sul satellite come lo scopriremo a breve. Parleremo anche di economia e di 90 lavoratori ferraresi di Mercatone 1 preoccupati per il loro futuro dopo le ultime notizie. Cronaca anche e continua la lotta dei carabinieri nelle piazze dello spaccio, due gli arresti a 100. Per la politica invece parleremo anche di alcune iniziative in città e per lo sport c'è la Juventus a Ferrara, la SPAL tenterà di fermare i bianconeri che se dovessero ottenere un punto si laureeranno anche campioni d'Italia con diverse giornate d'anticipo. Ma parliamo della novità di oggi in regione che riguarda anche Telestense ed è ER24 All News ed è un canale, il canale satellitare dell'Emilia Romagna che ogni giorno presenta le news e i notiziari delle principali città dell'Emilia Romagna di sei emittenti tra le quali appunto c'è anche la tv di Ferrara Telestense. Il canale satellitare visibile sul canale 518 di Sky e di TVSAT è stato presentato ufficialmente questa mattina al centro congressi di FICO Italy World a Bologna. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio. Presenta ogni giorno le news e i notiziari dalle principali città dell'Emilia Romagna trasmettendo le ultime edizioni dei TG delle redazioni di sei emittenti. Stiamo parlando di ER24 All News, il canale satellitare dell'Emilia Romagna presentato ufficialmente nell'aula magna del centro congressi di FICO Italy World a Bologna. Sì, è una giornata importante per l'Emilia Romagna, per tutte le emittenti che hanno collaborato a questo progetto. Abbiamo messo insieme sei importanti emittenti che coprono tutta l'informazione locale dell'Emilia Romagna. Sarà possibile seguire i nostri notiziari in tutto il territorio, anche dove adesso il digitale terrestre non raggiunge perfettamente con il segnale tutte le abitazioni e in più ovviamente abbiamo la possibilità di raggiungere tutto il bacino mediterraneo e l'Europa con informazioni di Telereggio, di TRC Modena, di TRC Bologna, Telestense, 12, TV Parma. Mi sono scordato qualcosa? Penso di no. Visibile sul canale 518 di Sky e TV Sat e con un qualsiasi decoder satellitare HD, IR24 All News raccoglie la sfida forse nel momento più difficile dell'emittenza locale nonostante, al contrario, la richiesta di informazione locale aumenti sempre di più. La domanda di informazione locale non è mai stata così alta. Parallelamente le nostre emittenti sono in grandi difficoltà dal punto di vista dei ricavi e dei costi. abbiamo sicuramente bisogno di raggiungere un livello anche di sostegno da un punto di vista dell'editoria, dal punto di vista pubblico, diciamo così, che sia al pari di quello degli altri paesi europei, a non solamente fatto sulla forza delle imprese che sono comunque in difficoltà. L'appello è alla Regione Emilia-Romagna che comunque ha dato una risposta, però la domanda che è emersa stamattina è quella legata sempre alla sostenibilità eventuale dell'informazione locale. Quanto e com'è sostenibile? Ci sono due chiavi. La prima, sicuramente le nuove tecnologie possono aiutare a ridurre quelli che sono i costi di produzione. Non è sufficiente. Abbiamo bisogno delle imprese e molte imprese sono vicine comunque al sistema dell'emittenza locale regionale. Non so se prima viene la Regione o prima lo Stato. Pensiamo prima lo Stato, ma però la Regione Emilia-Romagna per la sua sensibilità e per quelli che sono sempre stati gli obiettivi di sostegno al tessuto democratico e di partecipazione dei propri cittadini può fare di più. Sei redazioni giornalistiche, sei TG seguiti in ogni giorno da 400.000 persone. Il canale satellitare in un prossimo futuro potrebbe guardare anche all'Europa. L'Europa è sempre un'opportunità, ma è lontana. C'è un tema di raggiungere attraverso il meccanismo dei bandi anche le risorse. Noi sicuramente siamo piccoli e anche questo network, questa nuova collaborazione forse ci può permettere di intercettare qualche risorsa in più. Quindi il 12 aprile 2019 sarà ricordato come una data storica negli annali dell'emittenza locale dell'Emilia-Romagna, la nascita appunto di R24, canale satellitare dell'informazione emiliano-romagnola, portando così sul canale 518 di Sky e TV Sat i tv giornali delle principali emittenti locali della Regione e accenderà i riflettori sui territori appunto dell'Emilia-Romagna. Telestense partecipa al progetto con il TV Giornale della Sera, vale a dire l'edizione principale dei nostri TG che andrà in onda alle ore 22 e 30 sul canale 518 di Sky e TV Sat. TRC Bologna, Telereggio, TRC Modena, TR24 Romagna, Telestense e 12 TV Parma sono sei le emittenti televisive dell'Emilia-Romagna, veri e propri gruppi editoriali multimediali che hanno partecipato oggi a Bologna nella barriopinta sede di Fico World Italy alla presentazione del canale satellitare R24, destinato a raccontare, l'inizio è stato lunedì 8 aprile, le vicende e i territori della Regione. Telestense, accettando il progetto lanciato da TR Media, ritiene che questa iniziativa abbia aperto una nuova stagione nella comunicazione televisiva locale che con il canale satellitare, mentre crea una vera TV All News regionale in Emilia-Romagna, dimostrerà anche a chi è lontano dai tradizionali bacini di utenza degli emittenti la vita quotidiana, istituzionale, culturale, economica, sportiva e sociale delle principali città-capoluogo dell'Emilia-Romagna con i rispettivi territori provinciali. Il progetto, unico finora in Italia, mette insieme aziende e marchi diverse dell'informazione per raccontare all'Italia, all'Europa, le caratteristiche di una Regione che rappresenta un vero punto di forza dell'economia e della cultura del Paese. Il bello è che le sei emittenti restano giustamente, orgogliosamente autonome sui loro territori dove, sappiamo, quasi ovunque sono leader di ascolto. Questo per quanto riguarda il digitale terrestre. La collaborazione sul canale satellitare mette assieme il meglio di quello che già si produce in questi emittenti. Mette insieme il meglio dell'informazione locale, lo fa con qualità. E Sky lo ha riconosciuto. Ci ha messo 518 nell'area appunto delle informazioni on-news e di qualità e un riconoscimento di quello che già facciamo. Però mi va bene di interpretare che questa collaborazione fra queste sei emittenti diverse potrà avere uno sviluppo ulteriore nel futuro. Questa è una base di partenza ma è molto importante. La crisi del mondo dell'editoria si affronta sfidando il futuro con intelligenza e creatività. Si è detto questa mattina nel corso dell'incontro aperto dal presidente TTR Media Edwin Ferrari cui ha fatto seguito una breve tavola rotonda moderata da Ettore Tazioli, direttore responsabile di R24 alla quale sono intervenuti i direttori delle sette state televisive. C'è stata preoccupazione ed è anche sfociata in sciopero di una giornata per i dipendenti del Mercatone 1 dopo la notizia della missione alla procedura di concordato preventivo da parte del Tribunale di Milano della domanda avanzata da Shernon Holding, società che l'anno scorso acquisì 55 punti vendita a marchio Mercatone 1 tre di questi a Ferrara Provincia, sentiamo. I dipendenti Shernon ex Mercatone 1 sono di nuovo nella tempesta, sindacati sul piede di guerra dopo che Shernon Holding, società che lo scorso 9 agosto acquisì 55 punti vendita a marchio Mercatone ha recentemente deliberato di presentare al Tribunale di Milano la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. CGL e Cisle Will hanno proclamato un'intera giornata di sciopero nazionale giovedì prossimo 18 aprile per l'intero turno di lavoro con un presidio a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico quando dovrebbe tenersi un tavolo istituzionale tra aziende e sindacati. A Ferrara sono coinvolti tre punti vendita in città in zona fiera, a Mesola e a San Giuseppe di Comacchio per un totale di quasi 90 lavoratori. La Shernon è un'azienda che era stata costituita al fine di acquisire dall'amministrazione straordinaria 55 punti vendita ad insegna Mercatone. Poco dopo la cessione alcuni soci però avrebbero abbandonato l'azienda e sarebbe rimasto solo l'amministratore delegato. Per i sindacati poi la situazione negli ultimi mesi sarebbe degenerata. Negozi privi di merce, magazzini vuoti, fornitori che hanno ritirato la merce già consegnata e hanno smesso di effettuare consegne, ritardi nel pagamento degli stipendi. Queste le segnalazioni di CGL Cisle Will che hanno partecipato poco più di un mese fa a un incontro di livello nazionale con l'amministratore delegato di Shernon Holding in cui sarebbe stata annunciata la prossima ricapitalizzazione da 20 milioni di euro. Il 2 aprile poi le mese convoca i sindacati ma l'azienda, fanno sapere CGL Cisle Will, avrebbe chiesto in rinvio il 18 aprile prossimo, giovedì appunto, poi la comunicazione ai dipendenti della richiesta di avvio della procedura di concordato preventivo da parte dell'azienda. La situazione ex Mercatone 1 insomma è molto delicata e getta ombre sul presente di questa realtà che dà da lavoro a quasi 90 persone nel Ferrarese. Coppa Alleanza 3.0 approverà il bilancio 2018 a fine aprile. Il prestito sociale è al sicuro, spiega il presidente Adriano Turrini e la cooperativa resta il gruppo più importante della grande distribuzione in Italia. Continua poi il presidente, ma sentiamo. Nel bilancio del 2018 la perdita sarà largamente peggiore di quella dell'anno precedente. Il prestito sociale è stato blindato per prepararci al 2019, anno in cui torneremo a generare cassa. A sottolinearlo è Adriano Turrini, presidente di Coppa Alleanza 3.0, alle prese con il bilancio da approvare a fine aprile dal Consiglio di amministrazione. Mi fermo un attimo sul piano, abbiamo detto due cose in quel piano. Uno, la gestione caratteristica della cooperativa deve ritornare inutile in tempi brevi, quindi questo è l'obiettivo primario, non deve essere influenzata dalla gestione finanziaria e contemporaneamente a quei soci che hanno un grande rapporto di fiducia verso la cooperativa, prestandogli anche i propri danari, abbiamo detto che vogliamo essere in condizione sempre di dimostrare che il prestito è sempre solvibile e liquidabile in qualsiasi momento. Quindi avere sempre in tutto l'arco piano la cassa necessaria per far fronte a qualsiasi richiesta di piano, anche integrare se fosse necessario. Non è ovviamente quello che ci auguriamo, ma abbiamo usato il termine blindato per prestito sociale, anche in termini di serietà, deve essere blindato per i soci e il socio sarà rassicurato su questo percorso. La COP di consumo più grande d'Europa, nata tre anni fa dalla fusione di tante COP territoriali, sta rilanciando anche i supermercati, mentre sta portando a termine il bilancio che dovrà passare anche per l'assemblea dei soci. Quest'anno chiuderemo un 2018 figlio del piano che abbiamo approvato, quindi abbiamo detto un bilancio che vedeva ancora una gestione caratteristica in perdita, l'avevamo annunciato, in cui ci sentiamo di fare tutti quegli accantonamenti, quegli sforzi necessari a far sì che il rilancio della cooperativa sia immediato e che già nel 2019 la produzione di cassa della stessa sia importante. Perché facciamo questa operazione? Perché le scelte che la cooperativa ha fatto nel passato oggi si trovano con alcuni elementi ingessati. Più del 50% delle nostre vendite oggi si esprime all'interno degli ipermercati, un canale che è più in sofferenza di altri. Ed è il primo canale su cui all'interno del piano rimettiamo le mani, in alcuni casi riducendo le superfici, in altri casi cercando delle partnership, non con un modello che funziona e che va bene dappertutto, ma con caratterizzazioni particolari che debbono prevedere un attenuto, una ripresa di questo. Tenga conto che per essere realisti abbiamo previsto comunque nell'arco piano che soprattutto nel canale degli ipermercati le vendite continueranno a diminuire, pensando però di avere invece delle soddisfazioni maggiori in tutti i canali e supermercati che è quello in cui continueremo anche lo sviluppo. Adesso scendevano in strada e spacciavano cocaina in centro a cento i due uomini di origine marocchina di 28 e 30 anni arrestati ieri dai carabinieri di Cento nell'ambito dell'operazione Piazze di Spaccio. I due, tra l'altro entrambi senza permesso di soggiorno, secondo i militari, nascondevano la droga in casa per poi scendere in Piazza Govoni, vicino al centro della città del Guercino, per vendere le dosi ai clienti. Più di 10 grammi di cocaina hanno trovato i carabinieri addosso ai due nella loro abitazione. L'accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. E torniamo in città, ci spostiamo da Cento alla città di Ferrara. Finalmente il Tempio di San Cristoforo alla Certosa torna completamente fruibile a sette anni dal scosse di terremoto che imposero la chiusura per lavori. Lavori appunto di riparazione e miglioramento strutturale post-sisma, ormai giunti al termine parallelamente a cura dei musei di arte antica, sono stati completati gli interventi di restauro manutentivo specialistico su tutto il patrimonio artistico esposto all'interno del Tempio Certosino e in occasione delle prossime festività pasquali e della ricorrenza della giornata dedicata a San Giorgio i ferraresi e i turisti potranno visitare gratuitamente il monumento da giovedì 18 aprile, tutti i giorni festivi e feriali compresi, dalle ore 8.45 alle 17.15. E ci spostiamo da Ferrara Bologna, adesso 400 le aziende espositrici che si sono date appuntamento in Fiera Bologna per l'edizione 2019 di Cosmo Pharma, punto di riferimento del mondo della farmacia. Giunta alla 23esima edizione, Cosmo Pharma riunisce a Bologna fino a domenica gli operatori del mondo della farmacia, ma sentiamo subito il presidente di Bologna Fiere, Giampiero Calzolari e anche il direttore di Cosmo Pharma, Roberto Valente. Oggi ricordiamoci è stata l'inaugurazione di questa iniziativa. Cosmo Pharma, 23esima edizione, io sono in compagnia del presidente di Bologna Fiere, Giampiero Calzolari, oltre 400 le aziende espositrici per questo 2019. Sì, 400 aziende espositrici, 80 incontri informativi, 300 workshop, un 15% in più di volume d'affari, chiamiamolo così, rispetto alle edizioni precedenti. Una bella edizione, una bella manifestazione. Peraltro noi abbiamo anche approfittato dell'occasione per annunciare questa importante collaborazione tra Bologna Fiere e il gruppo Senaf Tecniche Nuove, che mette in sinergia la storia di Cosmo Pharma e di Expo Sanità. Quindi abbiamo lanciato questa idea di Bologna Capitale della Salute. Bologna ha tutte le caratteristiche, sia per la struttura dell'assistenza pubblica, la tradizione, la presenza dell'università, questa presenza della fiera, delle fiere dedicate alla salute, nell'ambito così, in un'accezione più ampia. Oggi parlare di salute significa parlare di benessere, significa parlare di buoni comportamenti di vita, di sostenibilità, ci piacerebbe che la città accogliesse questa nostra proposta, siamo sicuri che sarà così. Sappiamo che sono previsti una serie di convegni, proprio perché quest'anno il clan più social, più human, rimette al centro il paziente. Sì, che a noi piace chiamare anche cliente, non solo paziente, proprio per il concetto che una persona dovrebbe entrare in farmacia non quando sta male, quindi è un paziente e quindi vuol guarire, ma anche quando sta bene e quindi è semplicemente un cliente. Dal punto di vista dei contenuti, sì, abbiamo deciso di puntare molto l'attenzione sui rapporti umani, sulle relazioni. Infatti il claim nostro recita le relazioni al centro, le relazioni umane tra il farmacista e il suo cliente, tra il farmacista e i suoi collaboratori, è quel valore che fa la differenza, perché è vero, il cliente ora è omnicanale, il cliente magari va in farmacia, si informa, poi compra su internet, oppure si informa su internet, poi va in farmacia a chiedere un consiglio, che capita anche spesso, perché su internet si leggono tantissime cose e bisogna anche stare attenti a cosa si legge. In farmacia si ha una persona competente, professionista davanti, che è in grado di capire e di conoscere la persona, di guardarla da un punto di vista olistico e dunque di consigliare davvero quale può essere una soluzione. Quindi un'attenzione alla qualità e alla professionalità. Ovviamente anche le farmacie però si avvalgono del digitale. Ovviamente sì. Valorizzare i rapporti umani e le relazioni umane non vuol dire non utilizzare la tecnologia, negarla, vuol dire semplicemente non abdicare alla tecnologia, cioè non fare in modo che la tecnologia sostituisca il rapporto umano. Linea adesso a Nicola Franceschini che ci racconta le notizie sportive della giornata. Buonasera, benvenuti dunque all'appuntamento con Sportline, lo spazio sportivo che si apre ovviamente parlando di calcio in vista del match che si terrà domani alle 15, quello tra Spal e Juventus. Cresce dunque l'attesa per la partita che si terrà allo stadio Paolo Mazza quando arriverà la squadra bianconera in cerca di almeno un punto per laurearsi campione d'Italia anche quest'anno a pochi giorni della sfida decisiva in Champions contro l'Ajax. Servirà dunque la migliore Spal per ripetere il risultato della scorsa stagione quando terminò sullo 0-0. Vi ricordo che potrete seguire tutti gli aggiornamenti domani pomeriggio nel corso di match. Cominceremo alle 14.30, ma sentiamo a questo punto le parole di Mister Semplici. Con che spirito pensi la Juventus alla luce degli infortuni, alla luce del duplice ravvicinato impegno di Champions League si presenterà domani al cospetto della tua Spal? Con la voglia di vincere, come sempre. È dimostrato di avere in queste partite non credo che perché gioca uno o l'altro non venga con questo desiderio. Sicuramente gli manca anche poco per aggiudicarsi lo scudetto e credo lo vorrà provare a festeggiare domani. Starà a noi cercare di disputare una partita straordinaria perché così dovrà essere per cercare di rendergli la difficile e per fare un risultato positivo e cercare di fare punti anche contro una squadra di grandissimo valore, o meno la Juventus. Sotto il profilo psicologico e mentale sono le gare più piacere di queste da preparare? Sotto l'aspetto sì, non c'è bisogno di prepararle nel senso a livello motivazionale ci siano, credo ci siano e ci debbano essere tutte le motivazioni del momento, della partita, dell'importanza dell'omento della stagione. Insomma, vari aspetti e sicuramente fanno sì che i ragazzi siano sotto questo aspetto preparati al massimo. Poi, ecco, queste motivazioni andranno riportate sul campo cercando di interpretarla nella maniera migliore cercando di fare veramente una grande prestazione su tutti i punti di vista perché con loro insomma una squadra di valori assoluti e quindi bisogna sperare che come hai detto te magari loro pensino ad altro per provare a fare anche un risultato positivo perché sicuramente hanno qualità non solo da primi in Italia ma a livello europeo e quindi vengono a fare veramente una grande prestazione. Vari problemi per Max Allegri non sta molto meglio la luce anche di loro. Io vorrei avere i suoi problemi. Problemi anche per Leonardo Semplici? No, problemi sicuramente sono dell'assenza che purtroppo dispiace specialmente quella di Kurtic ma purtroppo il rischio di fare giocare certi tipi di giocatori a Cagliari lo sapevamo potevamo incorrere in certe situazioni per le troppe gare giocate e purtroppo con Kurtic è andata male e magari altri hanno stati fuori sicuramente ho sbagliato perché dovevo fare ancora più turn over per cercare di far sì che queste cose non accadessero. Quindi commento in diretta di Spai Juventus nel corso di match tutte le stesse ma parliamo anche di volley tutto facile dunque per la Crifi Quattro Torri nel match casalingo di sabato scorso contro Dolciaria Rovelli 3 a 0 il risultato finale bella partita peraltro commentata anche dal presidente della Quattro Torri Volley intanto cresce l'attesa per l'ultima partita in casa sentiamo dunque il presidente Presidente ci siamo divertiti questa sera con il 3 a 0 e col terzo set come hai visto la squadra contro Morciano? Chiaramente giocavamo contro l'ultima in classifica quindi il risultato doveva essere questo però mi fa piacere che abbiamo fatto giocare tutti quanti quindi c'è stato spazio anche per chi di solito può giocare poco è un risultato che dà continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime giornate e questo ci fa ben sperare per l'ultima parte di campionato sicuramente hai citato giustamente tutti i giovani che Coach Martinelli ha messo in campo alcuni sono davvero molto interessanti che impressione ti hanno fatto? Ma guarda io penso che i giovani hanno bisogno di giocare nel senso che va bene allenarsi con gente più brava però poi il campo è quello che ti fa crescere per cui purtroppo è chiaro che in certe partite c'è meno spazio è importante però che quando giochiamo contro avversari magari non da primi posti di classifica ci sia modo anche per loro di assaporare un po' il campo e di acquisire anche un po' di sicurezza un po' di automatismi che altrimenti se entrando un punto o due diventa un po' difficile abbiamo rischiato qualcosina però direi che se la sono cavata più che bene nel complesso e adesso cresce l'attesa per l'ultima partita in casa che sarà contro una squadra che voi conoscete molto bene beh il derby ovviamente come sempre il derby è una partita a sé sicuramente ha più da perdere di noi il Porto Maggiore perché si sta ancora giocando i playoff noi diciamo ce la giochiamo volentieri perché all'andata purtroppo avevamo l'infortunio di Sasdelli quindi non è stata una partita come mi sarebbe piaciuto ci ha giocato ad armi pari per cui io penso che sarà comunque una bella partita è chiaro che tiferemo per i nostri ragazzi però credo che ci sarà anche da parte loro la motivazione giusta per affrontarlo nella miglior maniera chiaramente spero che non sia la partita che gioca a sfavore del Porto Maggiore per i playoff nel senso che ovviamente auguriamo il Porto Maggiore di arrivare nei primi posti comunque di acquisire i playoff e con questo e con questo di di che di 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E con questo chiudiamo dunque la pagina sportiva, Sportline si conclude qui, la linea torna a Luca Veronesi. Andiamo subito a vedere le previsioni per il meteo di sabato. Previsioni per sabato 13 aprile. Tempo decisamente più instabile al centro-sud, dove sono attesi ancora rovesci e temporali sparsi. Sulle regioni settentrionali, tempo più asciutto e talvolta soleggiato, ma tenderà a peggiorare al nord-ovest. In Emilia-Romagna cielo più coperto e con qualche pioggia sui settori centro-orientali, altrove maggiori spazi soleggiati. Temperature massime comprese tra 12 e 15 gradi, valori notturni che scenderanno fino a 8-10 gradi. Previsioni a cura di ilmeteo.it Ci salutiamo con il venerdì sera su Telestense. Alle ore 20 torna Acerinforma e alle 21.30 torna anche Ferrara Live. La città racconta e scopriamo l'area e la storia del quartiere di Via Bologna fino all'Arginone. Bene, con questo è tutto. Vi ricordo Telestense.it e i profili social della TV di Ferrara. Grazie e alla prossima edizione.